insomma il marito gli fa la moglie diciamo ha visto quando mi dici che devo fattività fisica che dovranno a correre che mi devo muovere non serve dice come sarebbe a dire non serve no no non serve va bene basta quello che faccio con te a casa dice ma perché che fai con me a casa ah guarda c'è scritto qua un atto sessuale completo equivale a 20 km di corsa la moglie se lo guarda gli fa guarda che questa equivalenza non va bene per te dice perché come sarebbe a dire perché ma chi è quello che fa 20 km con 5 minuti ah 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 ah